La seconda soft skill di cui si occupa il libro è quella dell'autosviluppo, una soft skill fondamentale che io definisco strategica perché è la competenza trasversale che mette il turbo ai tuoi risultati, nel senso che accelera lo sviluppo delle altre competenze, facilita la realizzazione dei tuoi risultati e quindi ti conduce più rapidamente alla vita che desideri. Per spiegare in maniera non troppo tecnica la soft skill dell'autosviluppo ci sono due passaggi, uno comprendere le fondamenta logiche e poi condivido con te una formula che racchiude gli ingredienti dell'autosviluppo. Le fondamenta logiche sono queste, il punto di partenza è che se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre ottenuto, questa è una frase attribuita ad Einstein. Il di cui di questo principio di buonsenso è che se non sei soddisfatto, soddisfatta dei risultati che stai ottenendo è necessario cambiare. Bene, il punto però successivo è che non puoi cambiare ciò che non vedi e per vedere intendo consapevolezza, quindi una persona non può cambiare ciò di cui non è consapevole. L'altro passaggio, quindi vedere significa consapevolezza, l'altro passaggio è che la consapevolezza necessaria ma non è sufficiente, nel senso che se non passi a metterla in pratica non ottieni i risultati attesi. Questi ragionamenti sono racchiusi nella formula della crescita che è CP per CC per CS per A uguale quantità di risultati, realizzazione personale e professionale e serenità, felicità, prosperità. Cosa significano queste sigle? Andiamo a vederlo rapidamente e ti faccio anche l'esempio che faccio nel libro. CP sta per consapevolezza del problema, CC sta per consapevolezza delle cause, CS sta per consapevolezza della soluzione e poi c'è la A che è l'ingrediente più rognoso. L'esempio qual è? È quello di quando io da adolescente giocavo a tennis, io mi allenavo contro il muro, quindi giocavo da solo per i fatti miei. E quindi non ero consapevole del mio problema, nel senso che non ero consapevole che ero scarsino a giocare a questo gioco. Quando è che sono diventato consapevole del problema? Quando ho fatto le prime partitelle con altri ragazzini e prendevo delle sonore sconfitte. Quindi lì sono diventato consapevole del problema ma non riuscivo a risolverlo da solo. Avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a prendere consapevolezza delle cause, quindi i motivi per cui prendevo delle batoste e poi mi desse anche una soluzione. E quindi sono andato dal maestro di tennis che mi ha fatto capire che nel rovescio andava anche tutto sommato abbastanza bene. Il mio dritto era disastroso, perdevo potenza, precisione, eccetera, eccetera. Non è importante, è il meccanismo che ci interessa, non il contenuto. E quindi mi diede anche la soluzione, mi fece cambiare l'impugnatura, mi diede qualche detta. Ebbene, tu dirai, quindi grazie al fatto che sapevi qual era il problema, conoscevi le cause, conoscevi la soluzione, sei diventato il mago del tennis? No. Perché? Perché c'era l'ingrediente più rognoso e l'ingrediente più rognoso qual è? È l'allenamento. Cioè, dovevo allenare la nuova impugnatura e il nuovo movimento. E quindi, perché ero rognoso? Perché questo allenamento mi portava a dover uscire dalla mia zona di comfort. E quindi questo comportava fatica fisica, mentale, emotiva, c'era frustrazione. Perché uscire dalla zona di comfort è un eufemismo un po' concettuale per cambiare. Di fatto, la parola chiave è cambiare impugnatura, cambiare movimento. E cambiare comporta disagio, consumo di energia, insicurezza, ansia, frustrazione, a volte rabbia. Poi è chiaro che non sempre ci sono tutte queste conseguenze. Però in certi cambiamenti proprio vedi che c'è insicurezza nell'affrontarlo, c'è ansia, preoccupazione di comandola a finire, c'è frustrazione perché i risultati non arrivano e a volte ci può anche essere rabbia. E quindi, poi, la rognosità di questo ingrediente della formula fa sì che arrivi la più grossa bugia che ci diciamo. La più grossa bugia che ci diciamo qual è? È non ho tempo. Anche qui nel libro faccio un esempio autobiografico che faccio anche a te, che è il mal di schiena e lo stretching. Quindi, quando ero adolescente, passiamo a quando avevo sui 40-42 anni, ero manager delle vendite di un'azienda, ero manager a progetto, facevo chilometri, chilometri di macchina, facevo poco sport, insomma mi viene mal di schiena. Molto, molto forte. Vado dal fisioterapista che mi fa una puntura di ozono, poi un trattamento. Dopo il trattamento mi dice, senti ma lo stretching lo fai? E io mi ricordo che dissi, eh no, sai, sono consulente, sono impegnato, poi adesso faccio direttore commerciale, di qua, di là, pur buh, non ho tempo, insomma. Dice, ah va bene, mi dà la fattura. Questo giro qui l'ho fatto tre volte, pensa a te, ok? Nel senso che dopo un po' il trattamento che mi fece non faceva più effetto e quindi di nuovo mal di schiena, non riuscivo, diciamo, neanche a stare in piedi. Vado dal fisioterapista, trattamento, lo stretching lo fai, non ho tempo, fattura, ci cing. Ecco, quindi non te lo faccio ogni volta, questo è il concetto. Lui dice, ma la morale qual è? La morale è che tu puoi avere la piena consapevolezza del problema, io l'avevo, avevo un male cane. Puoi avere la consapevolezza delle cause, quella me l'aveva spiegata il fisioterapista, non avevo abbastanza allungato la cosiddetta catena posteriore. Puoi avere consapevolezza della soluzione, che è fare lo stretching, quindi l'allungamento della catena posteriore, ma se hai zero allenamento, e io mi dicevo che non avevo tempo, di fatto mi scocciava, non mi allenavo, quindi allenamento zero, il risultato della formula dice che è zero. Quindi alla fine il concetto qual è? È che la crescita, che sia applicata al caso che ti ho fatto, o anche le nostre benedette soft skills, è una questione matematica. E da questa consapevolezza poi è nata la domanda da un milione di dollari, cioè la domanda era ma perché io, e poi ovviamente capitavano solamente a me, capitavano ai miei amici, ai miei clienti, capitavano ai miei studenti, e immagino capiti anche a te, cioè che cos'è che ci capita? Che sappiamo cosa dovremmo fare, ma non lo facciamo. E allora lì è nata la scoperta, cioè che ognuno di noi ha dentro di sé il proprio lato oscuro, cioè un personaggio misterioso che cerca di sabotare qualunque nostra buona intenzione. E ne parliamo nel prossimo video. Ora io ti saluto e mi auguro di rivederti su questo canale, e in ogni caso un caro in bocca al lupo per la tua crescita, benessere e prosperità. Grazie a tutti.